Terribile schianto frontale fra due automezzi questo pomeriggio a Duna Verde di fronte al camping San Francesco. Nell'incidente è morto un automobilista di 43 anni della provincia di Venezia. L'uomo stava percorrendo viale Selva Rosada a Caorle al volante della sua automobile. Lo scontro con un furgone che proveniva nella direzione opposta si è rivelato fatale, erano quasi le 15.30. I pompieri arrivati da San Donà e da Caorle con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi e destratto l'automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Feriti in maniera lieve i tre stranieri a bordo del furgone prontamente assistiti dai sanitari del SUEM. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Nelle prossime ore dovranno stabilire le cause che hanno portato allo scontro fra i due mezzi.